Questi 5 segni zodiacali saranno i più difficili da dimenticare nel 2024. Se durante il 2024 vivi una relazione d'amore con uno dei 5 segni che ti indichiamo in questo video, sappi che la scelta di chiudere sarà molto dolorosa. Aprirsi a un nuovo amore può essere complicato, soprattutto quando devi lasciare andare una persona che ti ha toccato profondamente il cuore. Guarire un cuore infranto richiede tempo, e questi 5 segni zodiacali possiedono quel qualcosa in più, che rende davvero doloroso tagliare i ponti e lasciarli andare per la loro strada. Dimenticare queste persone ed escluderle dalla propria vita richiede molta energia e molto impegno, e non sarà una passeggiata. Quindi i nostri esperti ti consigliano di riflettere bene prima di chiudere una relazione con uno di questi 5 segni, perché se non riuscirai a superare la separazione, porterai molto dolore nel cuore durante il 2024. Quindi, fai attenzione ai consigli dei nostri esperti, ma prima di procedere, mi raccomando, iscriviti al canale. Iniziamo! Capricorno, se hai la fortuna di passare del tempo con un capricorno, il tuo cuore salterà di gioia. Questa persona speciale ti sommergerà di regali meravigliosi e parole amorevoli, e in sua presenza il mondo apparirà in una luce brillante. È come se il capricorno portasse con sé un sacco pieno di positività e sole, esclusivamente per te. Stare con un capricorno significa vivere sempre momenti piacevoli e la loro forza e il loro atteggiamento positivo ti attireranno incessantemente. Chi potrebbe resistere? I capricorni non sono solo affascinanti, ma anche estremamente stimolanti, attorniati da una moltitudine di ammiratori. Saranno con te sia nei momenti buoni che in quelli difficili. È una sfida superare qualcuno che ti fa sentire unico e ogni momento condiviso con questa persona è semplicemente incredibile. I ricordi del passato con il tuo capricorno lasceranno sicuramente un segno nella tua anima, e se chiuderai la tua relazione con un capricorno, sii paziente, ci vorrà molto tempo per superare questa chiusura. Bilancia È quasi impossibile resistere al fascino seducente della bilancia, un segno zodiacale amato dalla maggior parte delle persone. Le bilance possiedono un carisma straordinario e irradiano una serenità che attrae le persone, le quali si mettono in fila solo per trascorrere del tempo con loro. Un partner bilancia farà di tutto per metterti al primo posto e renderti felice, rendendo così la decisione di chiudere una relazione ancora più difficile. Sai che, una volta finita, la sua presenza mancherà improvvisamente nella tua vita. Le bilance sono note per la loro natura romantica e premurosa, capaci di farti sentire sempre apprezzato e amato. Il solo essere vicino a loro ti regalerà un sorriso. Il tempo trascorso con una bilancia è eccezionale, sono compagni insuperabili per le più belle avventure. Con un partner bilancia al tuo fianco, puoi essere certo che sarà sempre lì per te, il che rende estremamente difficile prendere la decisione di lasciarlo andare. Vergine Appena qualcuno si innamora di una persona del segno della Vergine, scoprirà sicuramente che non vuole mai più stare senza di lei. L'unicità delle persone Vergine caratterizza ogni relazione e chiunque abbia avuto la fortuna di essere con i Vergine riconoscerà senza dubbio che tale connessione è unica e difficilmente paragonabile in futuro. Nel 2024, sarà particolarmente difficile staccarsi da un partner della Vergine, poiché incarnano tutto ciò che hai sempre desiderato nella tua vita. La magia dei Vergine risiede nella loro intelligenza, creatività, delicatezza e piacevolezza. Puoi parlare di tutto con loro e risolveranno quasi tutti i tuoi problemi. Dare fiducia a chi è della Vergine è semplice e, se ti fa una promessa, la manterrà con dedizione e se incommetterai l'errore di lasciare andare un partner della Vergine, con il tempo ti renderai conto che sarà una decisione dolorosa. La rimpiangerai a lungo e ti dispiacerà profondamente di averla lasciata andare. Scorpione. Quando gli scorpioni si innamorano, vivono l'emozione in modo così forte e appassionato, e su questo è davvero difficile superarli. Dove altro si può trovare qualcuno di così intenso e passionale? Inoltre, si distinguono per un'eccezionale abilità sessuale, il che rende ancora più difficile separarsi da loro. Anche se non puoi entrare nella loro testa per capire cosa pensano, grazie alla loro grande sensibilità e attenzione, saranno sempre in grado di sorprenderti. Gli scorpioni incarnano un mix unico di impegno alla vecchia maniera, onestà e una personalità peculiare ma estremamente efficace. Questa combinazione li rende attraenti per gli altri. Gli scorpioni non esitano a esprimere la loro opinione e a difendere ciò che per loro è importante. Sentirai chiaramente quando ti amano veramente e questo ricordo di loro rimarrà sicuramente dentro di te. Come potresti mai trovare qualcosa di simile? Sembra quasi impossibile. Cancro. I cancro nel 2024 mostrano un tale impegno e affidabilità che, non appena si innamorano di te, sarai senza dubbio trattata come la persona più importante della loro vita e probabilmente non hai mai sperimentato tanto amore e calore da parte di qualcun altro. Si distinguono per la loro genuinità, affidabilità e straordinaria pazienza, rendendo davvero difficile irritarli. Il segno del cancro ha un ammirevole apprezzamento per le belle cose della vita e ti vizia con regali unici e pensati. Un partner del cancro sarà sempre al tuo fianco e, se dai per scontata la sua attenzione e cura nei tuoi confronti, presto te ne pentirai. Ti sentirai senza dubbio come la cosa più importante su tutto il pianeta, ed è insolito trovare qualcuno che ti apprezzi con una simile sincerità e dedizione. Sarà difficile trovare qualcuno che ti sia dedicato allo stesso modo di un partner del cancro, quindi rimpiangerai sicuramente la decisione di escludere un partner di questo segno, dalla tua vita. L'astrologia evolutiva del 2024 sembra promettere legami emotivi particolarmente impegnativi per coloro che si innamorano di questi cinque segni zodiacali. In cima a questa lista c'è il Capricorno, la cui energia positiva e natura generosa rendono difficile staccarsi da loro. La loro capacità di stare al tuo fianco sia nei momenti buoni che in quelli cattivi lascia un'impronta duratura. In modo simile, la bilancia con il suo fascino e la sua premura la rendono irresistibile. La loro presenza e supporto sono così forti che la loro assenza si sente profondamente. Il partner della Vergine, nota per la sua intelligenza e creatività, lascia anche anche egli un'impressione duratura. La loro unicità nelle relazioni rende difficile separarsi da loro, poiché spesso sono percepiti come partner ideali. Lo Scorpione, con il suo modo intenso e pieno di passione, incide anche lui nei cuori in un modo difficile da dimenticare. Il loro amore profondo e onesto, unito a una forte attrazione sessuale, li rende partner indimenticabili. Infine, c'è il cancro, la cui dedizione e affidabilità lo rendono un partner vitale. La loro capacità di mostrare amore e calore, insieme alla loro apprezzamento per le belle cose della vita, li rende compagni incomparabili. La decisione di lasciare un cancro dalla tua vita sarà spesso profondamente rimpianta, poiché è difficile trovare qualcuno con una dedizione simile. Ricorda, il tuo supporto è essenziale per il successo del nostro canale. Iscriviti, metti un mi piace e condividi le tue riflessioni nei commenti. Questi gesti semplici ma potenti contribuiscono enormemente a promuovere i nostri contenuti attraverso l'algoritmo di YouTube, aiutandoci a raggiungere un pubblico sempre più vasto. Il tuo aiuto è per noi molto importante. Un grande grazie da parte nostra e non perderti il prossimo video, dove ti aspettano previsioni ancora più entusiasmanti e coinvolgenti.